Musica Venerdì 12 luglio, San Fortunato Martire. È il 194esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 172 al termine. Il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.58. Dall'uno si eleva alle 12.08 e tramonta alle 23.55. Il governo austriaco mette in vendita a Venezia la gigantesca statua di Napoleone, eretta durante l'occupazione francese in piazzetta dei Leoncini. Viene acquistata dallo scultore Bosa per 3.000 lire, ma prima della consegna la polizia austriaca ne fa sfigurare la testa a colpi di martello, in modo da renderla irriconoscibile. Il popolo inoltre si è raccanito su di lei con altre gesta e azioni. Musica Le previsioni per domani. Nuvolosità variabile alternata a tratti di sereno. Non esclusa qualche precipitazione, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nelle zone montane e pedemontane. Temperature in lieve calo. Musica 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 Musica